Dopo oltre 4 anni e mezzo di lavoro per il suo importante incarico a Pistoia, lascia la città e torna nella natia Umbria Umberto Alunni, direttore generale della Cassa di risparmio di Pistoia della Lucchesia. Un'esperienza professionale che si conclude in parallelo al passaggio finale della banca in Intesa San Paolo. Sono stato 4 anni a Pistoia nel mio ruolo istituzionale e oggi ritornerò a Pistoia come privato cittadino, come persona amante della città di Pistoia. Vado a fare altre cose, ancora ritengo di essere abbastanza giovane, farò altre cose, mi impegnerò come ho sempre fatto ma in un'altra località e a dire il vero nel posto dove sono nato e dove sono vissuto. Da pensionando, da pensionando. Nell'amico Umberto come impegni futuri è un qualcosa che sia al di là del fattore lavoro. Mi gradirei moltissimo impegnarmi nel sociale, ho qualche idea e vediamo di portarla avanti, ma in ogni caso qualsiasi cosa farò porterò sempre Pistoia e soprattutto gli abitanti di Pistoia nel cuore. Ma direi che non debba essere un saluto, è un arrivederci. Io sono molto fautore dell'aspetto circolare della vita. In questa città ha vissuto per tantissimi anni la mia ostetrica, pensa, e quindi che purtroppo è venuta a mancare qualche mese fa. Quindi io sono ritornato alle origini e come tale riparto con la serenità e con i Pistoiesi nel cuore. Grazie a tutti.